E' stato il giorno dell'ultimo saluto a Don Paolo De Grandi, compianto parroco di Campolucci, cappellano della Polizia di Stato di Arezzo e soprattutto sacerdote del Grande Calcio. I funerali sono stati ufficiati dall'arcivescovo di Arezzo Riccardo Fontana nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo a Campolucci alla presenza di tutte le massime autorità religiose, politiche e militari della città. L'ultimo saluto a Don Paolo ha chiamato a raccolta l'intera città di Arezzo oltre che alla comunità di Campolucci. In tantissimi si sono riverzati sotto quei pini cari a Don Paolo per dirgli addio. Presenti anche i ragazzi del Gress, il gruppo estivo fondato proprio dall'impegno di Don Paolo che hanno indossato la maglietta gialla del gruppo. La messa è stata celebrata a fianco del campo da calcetto dove il sacerdote ha perso la vita a causa di un malore venerdì scorso durante una partita di calcio con i ragazzi dell'oratorio. Proprio lui che del calcio ne aveva fatto un pilastro della sua attività pastorale. Grazie.